Musica Ben trovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, dunque come era nell'aria, come era atteso da tutti i tifosi bianconeri, il Viareggio batte l'Ammari 3 a 0 e ritorna in Serie D. Quindi 32esima giornata del campionato di eccellenza, il Viareggio allo stadio dei Pini ha battuto per 3 a 0 il Lammari, la successione delle reti nel primo tempo i bianconeri hanno un po' faticato, sono andati comunque in vantaggio quasi allo scadere con un gol di Visibelli, in apertura di ripresa Angelo Buglio ha raddoppiato e poi intorno al quarto d'ora Mammetti ha messo il sigillo definitivo. Ad una partita che dunque ha sancito con due giornate d'anticipo il ritorno del Viareggio in Serie D, dunque il fallimento dell'estate scorsa, la ripartenza dall'eccellenza e una squadra costruita in fretta e furia e comunque sotto la guida di Paolo Tognarelli subito il ritorno in Serie D. Che gli dovete fare i baffi? Monopoli, non Monopoli, dacci la chicca, aveva scommesso i baffi. Allora sei te che è il barbiere? 40 anni, 40 anni di baffi! E quindi gli aveva detto, eccolo, gli stanno facendo, gli stanno tagliando i baffi, stanno tagliando i baffi, stanno tagliando i baffi al mister, stanno tagliando i baffi al mister. Vediamo il quadro completo della 32esima giornata di eccellenza. Atletico Piombino, Pietrasanta 4-1, Camagliore Prolivorno 1-3, Forcoli, Castelfiorentino 3-3, La Portuale Cenaia 1-2, Realforte Quercetta Coiopelli 1-0, Rosignano Ghiviborgo 0-2, Castelnuovo Urbinotaccola 0-0, Viareggio Lammari 3-0, riposava il Seravezza. Abbiamo anche la classifica, Viareggio 65, Ghiviborgo 61, Camagliore Cenaia 52, Realforte Quercetta 50, Pietrasanta La Portuale Coiopelli 41, Seravezza 40, Lammari 38, Atletico Piombino 35, Urbinotaccola 34, Prolivorno 33, Castelnuovo 32 e poi chiude Rosignano a 19. Diciamo che anche la lotta per la salvezza matematicamente non è terminata, dunque le ultime due giornate saranno decisive. E adesso parliamo di Lucchese, domani di nuovo in campo contro il San Marino. Da quello che era un tabù a rullo compressore, il Porta Elisa è divenuto, finalmente, il Fortino della Lucchese. Pensate che nel 2015, ovvero dalla rimonta del 6 gennaio sul Propiacenza, fino al meraviglioso derby con il Pisa, solo Prato e Gubbio, rispettivamente 1-1-0-0, sono uscite indenni dal campo di Lucca. Ne sanno qualcosa in ordine sparso le varie Forlì, l'Aquila e Spal, tanto per citarne alcune. Insomma, la Lucchese ha costruito la propria salvezza, un fantastico girone di ritorno tra le mura amiche. Schemi e movimenti da ripassare a memoria nella rifinitura della squadra che Nanu Galderisi pretende svegli attenta. Come suol dirsi, bisogna rimanere sul pezzo per trascorrere una Pasqua davvero serena. Arriva un San Marino in piena crisi, che ha cambiato allenatore da Tazioli a D'Adderio, ma che vede ancora la possibilità di evitare perlomeno l'ultimo posto. Ecco perché la concentrazione deve essere alta, capitolo formazione delineato, visto che sono fuori causa Pagano, Calcagni e Ferretti. Pertanto, sul prato amico del Porta Elisa, Lucchese è inizialmente in campo con Di Masi in porta, risaliti e specie Calistri e Nolè in difesa, De Geri e Mingazzini, Cerniera Mediana, Scapinello e Losicua, supporto di Forte e Rajcevic. Dall'Olimpico di Serravalle e da San Marino partì l'avventura di Galderisi sulla panchina della Lucchese. In una brumosa serata novembrina, quella squadra, ancora convalescente e scossa da un avvio di stagione a dir poco tormentato, riuscì a cogliere una vittoria quanto mai preziosa e pesante, grazie a questa rete di Filip Rajcevic. Ecco, in un momento così positivo, tra le poche note stonate, vi è senza dubbio la difficoltà del 22enne attaccante Montenegrino a trovare la via del gol. Anche la sfortuna ci ha messo spesso lo zampino, vedi l'ennesimo legno colpito a Pistoia, ma il gigantesco attaccante rossonero può e deve migliorare sotto porta. Le qualità non gli mancano, ora dipende solo da lui. Vi ricordo domani sera l'appuntamento con Curva Ovest alle 21, commenteremo ovviamente il risultato della partita e poi partita in telecronaca integrale venerdì sera alle 23 su Noi TV. Il calcio giovanile si profila una grande partecipazione per il dodicesimo trofeo internazionale di calcio giovanile che si terrà anche sui campi della provincia di Lucca, la Pisa-Viareggio World Cup. 120 le squadre partecipanti provenienti da tutta Italia, ma anche da alcuni paesi europei ed extraeuropei. Il pugilato Marvin De Bonlari della pugilistica lucchese ottiene una bellissima vittoria sul ring di Calenzano, su Gianni Sicuranza dell'Accademia Pugilistica Fiorentina, prestazione da incorniciare per il pugile di Giulio Monzele San che può aspirare anche al salto tra i professionisti. Il basket tre lucchesi fanno parte della delegazione toscana che partecipa al trofeo delle regioni in 2015, riservata ai nati nel 2001, sei giorni di gara dal primo al 6 aprile che si svolgono a Roma. Ci sono Gianmarco Drocher, nato e cresciuto nelle giovanili del centro minibasket Lucca, oltre a lui Massimo Chiarello, allenatore della selezione Lucca, responsabile del settore giovanile e coach del gruppo Under 15. Infine Umberto Vangelisti, direttore sportivo del centro minibasket che è stato scelto dalla FIP regionale come capo delegazione. Chiudiamo con una notizia di ginnastica, la ginnastica ritmica Lucca, protagonista al 16esimo trofeo Iris di Firenze in uno dei palcoscenici più prestigiosi di tutta la Toscana. I risultati hanno confermato il buon momento delle farfalle lucchesi con tanti piazzamenti e medaglie. Prossimo impegno ad Arezzo il 18 e il 19 aprile per il campionato regionale ICS. È tutto per lo sport, una breve pausa e poi la terza parte del TG Noi.